E questi sono i fori dove si è incastrato il diavolo con le sue corna. Conosci la storia della colonna del diavolo? Siamo a Milano, nel quartiere Sant'Ambrogio, proprio davanti alla Basilica. È una tradizione della città di Milano che lega proprio un fatto del suo santo più conosciuto, Ambrogio, che a quanto pare si trovava proprio qui di fronte alla Basilica, che poi avrebbe preso il suo nome e avrebbe incontrato un giorno il diavolo. Il diavolo voleva convincere Ambrogio a passare dal lato scuro, dalla parte del male. Ovviamente il santo lo affrontò. E il diavolo finì contro questa colonna adiacente proprio alla Basilica, una colonna di epoca romana, e le sue corna finirono per formare questi due fori. Il diavolo rimase incastrato a lungo, prima poi di scomparire, terrorizzato. Ecco, secondo la leggenda della colonna del diavolo, se si avvicinano le orecchie a questi fori e si possono anche ascoltare i suoni provenienti direttamente dall'inferno. E tu conoscevi questa storia?